Amici di Lecco FM siamo sul lungo lago di Lecco perché si è appena conclusa la diciottesima edizione del triathlon città di Lecco e siamo con Renzo Straniero che possiamo dire l'organizzatore insomma da tantissimi anni di questa manifestazione. Allora quest'anno manifestazione riuscitissima, tantissime persone che hanno partecipato, ho visto che è arrivata gente anche da oltre continente quindi qualche parola così a caldo insomma in tutti i sensi dopo questo pomeriggio e questa mattina. Sì una bellissima edizione come sempre siamo arrivati al diciottesimo anno per cui un bel successo, sei nazioni presenti, anche Brasile per cui un bel indotto straniero e belli atleti, atleti di qualità. Non per niente ha vinto questo Massimo De Ponti che ha sulle spalle cinque titoli italiani e un titolo mondiale insomma. Benissimo, ecco per me che non sono tanto sportivo e per anche gli ascoltatori insomma triathlon vuol dire è detto proprio volgarmente l'insieme di tre sport che sono il nuoto in questo caso, la bicicletta e la corsa giusto? Esatto, nuoto a bicicletta, penso che qui per l'ecco sono tre discipline ideali perché un lago in una giornata come oggi non è facile da vedere, un percorso in bicicletta, multilab completamente chiuso al traffico così anche a piedi col passaggio diciamo scenografico sul Ponte Kennedy, insomma è un palcoscenico onestamente in Italia difficile da poter rivedere per cui complimenti veramente agli atleti 550 e anche alla città di Lecco, all'amministrazione e al nostro lago. La parte più complicata secondo lei delle tre? La parte più complicata è senz'altro sempre la bicicletta perché va garantita la massima sicurezza sulle strade, la massima sicurezza non solo per gli atleti ma anche per i pedoni per cui concentriamo tutti i nostri sforzi ma qui a Lecco riusciamo sempre a avere un ottimo risultato sia dal punto di vista tecnico sportivo ma anche dal punto di vista logistico, tecnico abbiamo fatto un bel lavoro. Anche a livello di sponsor ho visto che man mano negli anni siete riusciti anche a raccogliere sempre più partner tecnici che a quanto pare sono importantissimi insomma è giusto che sostengano questo genere di manifestazioni. Sì, belle aziende, quest'anno abbiamo avuto Decathlon che ci ha supportato con tutti i materiali delle premiazioni e dei pacchi gara per cui queste partnership fanno sempre comodo ma fanno bene anche all'immagine della gara insomma. Assolutamente, un riassunto diciamo dell'evoluzione in questi anni di questo triathlon? Noi in questi anni abbiamo cercato di perfezionarlo sempre di più per quanto riguarda la sicurezza abbiamo allungato i metri coperti da transenne che sono importanti per cui pian pianino stiamo cercando di avvicinarci non alla perfezione ma quasi insomma. Bene, allora noi ringraziamo Renzo Straniero che è stato gentilissimo e adesso lo lasciamo alle sue mansioni insomma in conclusione di questa bellissima e riuscitissima giornata estiva di triathlon. E per il momento da Andrea Gianviti per l'EcoFM è tutto, grazie, grazie a Renzo, grazie a tutti e arrivederci. Grazie a prossimo anno.